Ci vorranno ancora mesi prima che il complesso sportivo di Santa Barbara torni agibile e fruibile, forse addirittura un paio d'anni. A confermare i tempi lunghi del recupero di uno dei complessi sportivi più attrezzati dell'Aquila, chiuso ormai da un anno, con decine di lavoratori disoccupati e l'assessore allo sport e alla ricostruzione Vittorio Fabrizi. Nei giorni scorsi l'Aggiunta Comunale ha approvato il progetto di riqualificazione della parte impiantistica, ora si attende l'approvazione del capitolato di gara che poi dovrà essere inviato all'ufficio gare. Nel capitolato sono inserite diverse voci, quella relativa alla realizzazione delle opere previste per la messa in sicurezza della struttura e alcuni aspetti gestionali come le tariffe a condizioni particolari per alcune categorie di fruitori e associazioni sportive. E anche il mutuo da oltre 2 milioni di euro sottoscritto dal precedente gestore. Chi risponderà al bando di gara europeo per la gestione dovrà dunque accollarsi anche ai lavori di messa in sicurezza e il mutuo. Un punto quest'ultimo che preoccupa i consiglieri di opposizione convinti che si corre il rischio che il bando possa andare deserto. La pista di pattinaggio che è inagibile e anche i campi da tennis e di calcetto verranno affidati in via provvisoria al consorzio pattinatori dell'Aquila fino all'aggiudicazione definitiva della gestione in modo che la pista possa essere funzionante e manutenuta sempre. L'impegno dell'amministrazione comunale è di salvaguardare i lavoratori assunti o impiegati dalla precedente gestione. A tale scopo è stata inserita la clausola sociale nel capitolato.